le criticità e ho chiuso io le ho individuate in queste quattro slide allora, prima cosa, l'abbiamo già visto il quadro normativo è farraginoso e non ben coordinato cioè, si dice una cosa in una norma una cosa nell'altra, la direttiva ne dice un'altra ancora però io la chiamo così e allora sfugge cioè il potenziale conflitto quindi tra ambito diritto d'autore e ambito beni culturali poi vedi questa cosa del decreto del 94 con un tariffario non aggiornato e basato su una norma primaria che io non trovo più come vigente poi magari qualcuno mi smentirà, non lo so e poi sono norme pensate in un mondo che non esiste più, e non è che siano tanto vecchie, perché il codice beni culturali del 2004 ma poi rinnovato nel 2014 e nel 2017, non è che parliamo di secoli fa, per gli studenti sì, nel 2004 loro erano tipo il primo, il secondo anno d'asilo e quindi capisco, però vi assicuro, per il diritto non è un mondo così vecchio cioè, norme da cui emergono, vedete, molte reminiscenze legate ancora all'analogico, alle riproduzioni in senso analogico, approccio molto burocratese e poco coerente con i principi dell'open government e della trasparenza pubblica che abbiamo oggi seconda criticità troppa discrezionalità lasciata ai singoli enti questa cosa qui è una cosa che a me manda fuori di testa e lo dico e metto in evidenza l'ultimo dei punti, cioè io quando sono avvocato e mi trovo a fare cioè quando agisco come avvocato e devo fare consulenza su questi temi mi trovo in imbarazzo di fronte al cliente che mi chiede avvocato quanto devo pagare perché non lo so perché quanto devo pagare ce lo dice il tizio del museo che un anno ti risponde una cosa l'anno dopo te ne risponde un'altra perché e boh, è cambiato il dirigente e ti dici no ma scusi, non funziona così il bene è sempre lo stesso l'utilizzo che faccio è sempre lo stesso io sono la stessa casa editrice ma è possibile che un anno paga una cosa una cifra e l'anno dopo ne paga un'altra c'è qualcosa che non va vuol dire che c'è discrezionalità e se c'è discrezionalità vedete c'è il rischio di situazioni di disparità di trattamento che portano ai ricorsi quindi esponi crei contenzioso amministrativo e poi c'è questo tariffario del 94 che dice quindi c'è un tariffario di riferimento però poi la norma quella del 2017 dice che c'è quella del codice beni culturali 107-108 che la quantificazione del canone è competenza del singolo ente quindi anche lì non si capisce bene terza e vado davvero verso la fine scusatemi la questione economica quella che abbiamo detto velatamente all'inizio cioè tutto questo sistema sta in piedi a livello economico è sostenibile? allora alcuni dicevamo prima con Marco nutrono dubbi sul fatto che questo sistema di autorizzazioni stia in piedi nel senso che se mi costa di più lo stipendio del funzionario che deve gestire la macchina rispetto a quello che incasso cioè proprio a livello di danno errariale cioè devo assumere una persona che mi costa 13 mensilità o 14 mensilità le fede e tutto che deve stare lì a gestire richieste che mi fruttano meno di quanto io pago lui per 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 lavorare esatto anche lì a volte magari c'è la botta importante per cui incassi molto e poi stai degli anni o dei mesi senza incassare nulla però è tutto intanto l'omino che fa queste cose di assumere o di pagare e poi anche lì crea disparità tra l'ente grande che può avere personale in abbondanza e il museo un po' più piccolo che ha un amministrativo che deve fare un po' di tutto e che non è neanche qualificato per gestire sta roba ok e quindi anche lì non è molto corretto neanche come discorso prima di disparità di trattamento e l'ultima è quella che piace di più quella che mi piace di più perché è quella che vi ho già anticipato se sta roba è un diritto connesso allora è contrario alla direttiva punto la direttiva è talmente chiara e se noi continuiamo a giocare con le parole dire ma io lo chiamo in modo diverso cioè troppo bello se fosse così semplice chiamare le cose con un nome diverso per eludere le direttive europee l'avremmo fatto con tante direttive europee fastidiose no no processo di frazione no secondo me devi andare di fronte a un giudice uno si deve immolare uno tipo un wikimedia commos un esempio a caso abbia voglia di spendere di assumersi il rischio andare di fronte a a un giudice e sollevare un conflitto tra norme oppure andare di fronte alla corte di giustizia quindi in no tu puoi anche di fronte al giudice dire il giudice ma sta qui questa norma è in conflitto con una norma che è gerarchicamente superiore veda lei e lì il giudice potrebbe disapplicarla però perché questo crei un precedente che poi costringe tutti gli altri giudici a farlo ci passa quindi sarebbe meglio che di fronte al primo test il legislatore ci buttasse un occhio che dice aspetta un attimo allora correggiamo un attimo il tiro e se no deve andare di fronte alla giurisprudenza europea e dire guardate che là in Italia hanno fatto una legge impugnarla e dire hanno fatto una legge che è contraria a direttiva ed è una figuraccia meschina perché è una roba se è davvero così io la vedo così e altri miei colleghi mi hanno confermato che è così e non è mica guarda tu dici sì e sì ma sai quanti invece dopo ti faccio i nomi in privato mi hanno detto eh no insomma bisogna stare attenti perché non è detto che sia un diritto connesso potrebbe essere inteso come un diritto diverso e quindi sta in piedi da solo secondo me questa sentenza qua di Cava Michelangelo è bellissima perché chiamandolo dicendo che è una sorta di diritto d'immagine perfetto me l'ha infilato nell'articolo 87 o articolo 96 che è quello sul diritto d'immagine delle persone vabbè comunque nonostante lo scopo principale della norma sia tutelare il bene culturale in realtà buona parte dei casi in buona parte dei casi non parliamo di riproduzioni che mettono in pericolo il bene culturale in sé ma di riproduzioni di riproduzioni fino all'estremo di Cava Michelangelo che sono neanche riproduzioni di riproduzioni ma sono riproduzioni di copie più di un vincolo più che un vincolo di tutela sembra un diritto d'immagine vedi sentenza Cava Michelangelo allora se ha un diritto d'immagine rientra nei diritti connessi e mi va in conflitto con la direttiva io arrivo a questa conclusione la passo a tutti gli altri colleghi cioè rimane registrata sta cosa spero che altri colleghi giuristi e avvocati la guardino e mi dicono riprende stai delirando perché se mi dicono che sto delirando io lo accetto però se mi dicono che invece ho ragione allora ci vorrebbe che qualcuno vada a diglielo al ministero o a chi fa le norme o ai giudici che poi le applicano in quel modo e poi chiudiamo con questa fantastica provocazione ce l'avete qua una provocazione editoriale un libro a mia firma che è come dire ve lo lascio scoprire da soli andate a leggere la presentazione comunque è una raccolta di cartoline con diciamo le perle del nostro patrimonio culturale il prezzo di 71 euro nonostante sia un libretto anche lì è voluto c'è tutto un discorso anche lì vedremo come andrà a finire se rimane una provocazione editoriale o se porta l'autore o l'editore in causa di fronte a qualcuno non lo so bisogna chiedere all'editore se qualche pazzo ha pagato 71 euro per sto coso però però intanto c'è e costa più di 71 euro quindi sottolineo costa più di 71 euro spiego poi in privato a chi vuole saperlo perché il prezzo di 71 euro è così rilevante ottimo bene questo è un buon suggerimento ma non l'ho mai divulgato è la prima volta è un'anteprima che avete è già in giro in realtà sul sito dell'editore c'è da un paio di mesi però è la prima volta che ne parlo pubblicamente no allora lo spiego il il prezzo di 71 euro è perché c'è nelle varie linee guida adesso non mi ricordo in quale decreto la norma che dice che le pubblicazioni editoriali sotto le 2000 copie di tiratura o sotto i 70 euro di prezzo di copertina rientro in un uso culturale diciamo sopra i 70 euro automaticamente sei uno che vuole sei uno che vuole fare i soldi e sei una brutta persona e quindi ho detto visto che 2000 copie non le posso tirare perché l'editore mi frusta o me le pago io l'unica cosa che potevo fare era alzare il prezzo 71 euro per diventare brutta persona e quindi l'ho fatto in quel modo vediamo cosa succede sì 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 prego eccolo e niente qua ci sono i riferimenti alle cose che insomma vi consiglio di leggere se volete approfondire tra cui appunto un articolo di Mirko Modulo che è l'altro come dire prima di passare la palla a sì sì sono cartoline ma perché volutamente devono essere cartoline perché la norma diceva vi ricordate la direttiva europea lasciava un po' di spazio ai musei sulle cartoline lui ha detto proprio cartoline faccio perché se fosse un libro commentato avrei sarebbe stata una cosa diversa avrebbero potuto dire che che era un'attività culturale invece qua noi siamo proprio delle brutte persone vendiamo cartoline dei musei eh attenzione quindi volevo dirlo cioè livello di io tra l'altro come avvocato non potrei nemmeno come dire mostrare comportamenti che incitano all'illegalità quindi potrei avere anche delle conseguenze potrei avere delle conseguenze anche dal punto di vista deontologico sì va bene esatto tra l'altro in galleria ci sono già basta andare qua dietro nelle celle qua dietro perfetto ecco perché l'hai organizzata le murate ottimo perfetto ottimo va bene qua vi ho lasciato i riferimenti slide presentazione e video sono sotto lì senza creare i commons dai e rimanete in contatto con questi temi seguendomi sui social grazie a tutti